eh mazzo lo trova anche indietro dai! finchè sei nelle spese, trova indietro! sono dietro indietro! ah beh! sono da fermi! eh! io faccio fermo, tanto la foto mi fermo Michele! normalmente stiamo facendo un video da 15 secondi circa! guarda! hai visto una stichezza di magia! hai amato! siamo figa in arena con un corno nel culo! adesso vengo io e bollo una scorsa di qua!